Villa Tacchi sarà il luogo ideale per celebrare il vostro amore grazie a uno scenario da sogno fatto di grandi vetrate, luce naturale, un parco di grande valore storico e uno staff che saprà guidarvi verso l'evento dei vostri sogni. I saloni della villa sono ambienti di grande raffinatezza che possono ospitare comodamente seduti fino a 250 invitati. Questi spazi godono di luce naturale e di un caminetto per dare un tocco di familiarità in più ai matrimoni invernali. Il parco secolare invece è lo scenario ideale per un bellissimo aperitivo di benvenuto, magari a bordo piscina o per incorniciare momenti salienti come il taglio della torta. Nel parco potrete anche celebrare il rito civile legalmente valido o, se desiderate sposarvi con rito religioso, approfittare della splendida cappella privata per una cerimonia molto intima. Il personale di Villa Tacchi curerà il vostro ricevimento nuziale in maniera impeccabile, al fine di regalarvi un vero e proprio sogno a occhi aperti. Villa Tacchi dispone di un servizio di ristorazione interna che garantirà al vostro banchetto nuziale un menu personalizzato che si adatti ai vostri gusti e alle vostre esigenze. E se desiderate prolungare il più possibile il giorno più bello della vostra vita, Villa Tacchi vi mette a disposizione le sue 49 camere d'albergo 4 stelle, dove anche i vostri invitati potranno pernottare in tutta tranquillità.